Musica Sequestrati a Milano beni per 3 milioni al boss dell'andrangheta locale Carroziere detiene illegalmente munizioni e droga, arrestato Il TAR accoglie il ricorso di un emo danneggiato Rifiuti abbandonati in un bosco, due denunce Carabinieri festeggiano il 205esimo anniversario della Fondazione Celebrazioni in Calabria Strada Iopolo-Coccorino, entro 15 giorni l'avvio dei lavori Agenzia delle Entrate nel 2018 compra vendite case più 2,5% Il 7 giugno ai Cinque Frondi la quarta marcia della pace con gli studenti, autorità ed associazioni Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del TG Piana News Iniziamo subito con le notizie di oggi Beni per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati al boss dell'andrangheta Lombarda, Francesco Manno A operare il sequestro è stata la divisione anticrimine della Questura di Milano Manno, considerato capo della locale di Pioltello, era stato coinvolto nella maxindagine infinito ed è in carcere dal 2010 Ha ricevuto l'ultima condanna nel 2017 con una pena a 13 anni A marzo di quest'anno la stessa divisione anticrimine gli aveva sequestrato beni per oltre un milione di euro Una villa di 8 stanze per oltre 200 metri quadrati Un appartamento di settevani con terrazzo e box auto Un asilo, una tavola calda e un bar Tutto a Pioltello E il tesoretto quantificato in 3 milioni di euro che è stato sequestrato in due diverse occasioni dagli agenti della divisione anticrimine della Polizia di Milano A Francesco Manno, ora detenuto nel carcere di Opera per un cumulo pene di 13 anni e 6 mesi Le indagini patrimoniali sui beni di Manno hanno evidenziato una sproporzione evidente tra quanto posseduto e quanto dichiarato Ufficialmente frutto di un'azienda nel campo edile e secondo investigatori e procura conseguenza dell'attività criminale Il 22 marzo scorso l'anticrimine aveva già colpito Manno con un provvedimento di sequestro preventivo di un milione di euro Cifra che ora sale a 3 con il resto dei beni coinvolti I carabinieri della stazione di Cutro durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi e droga Svolto nella città di Crotone hanno tratto in arresto un carrozziere 34enne del luogo In particolare i carabinieri hanno eseguito una perquisizione locale presso la carrozzeria dell'uomo Rinvenendo 22 cartucce calibro 38, 42 cartucce calibro 22 Nonché sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 44 grammi e materiale per la pesatura Tutto posto sotto sequestro L'arrestato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone Ha scoperto di aver contratto l'epatite C a causa di una trasfusione di sangue Avvenuta nel corso di un intervento chirurgico Cosa che gli dà diritto all'indennizzo mensile in base alla legge 210 del 92 Che però non gli viene corrisposto A seguito di questa inadempienza l'avvocato Francesco Pitaro A cui il paziente si è rivolto Ha ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un'ingiunzione di pagamento Nei confronti del Ministero della Salute Il Ministero, secondo quanto riferisce il legale, non ha inteso pagare Pertanto la persona che ha ritenuto lesi i suoi diritti Ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Che lo ha accolto ordinando al Ministero della Salute Di pagare l'indennizzo entro 30 giorni In caso di perdurante omissione da parte del Ministero Ha precisato il legale È prevista la nomina di un commissario ad acta Che paghi l'indennizzo in sostituzione dello stesso di Castero Dovevano rinnovare il supermercato Ed hanno pensato bene di disfarsi di tutta la merce avanzata Sigillata in sacchi, gettandola in un'area boschiva di San Demetrio Corone Padre e figlio di 69 e 40 anni, titolari di un esercizio commerciale Sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri Per abbandono di rifiuti pericolosi e speciali su aree non autorizzate I militari hanno individuato delle vere e proprie discariche In località Rota e Fontana d'Andrea Con decine di sacchi neri colmi di materiale di risulta Generi alimentari scaduti, piccoli elettrodomestici E detersivi di ogni genere Tutti con il marchio di una catena di supermercati Dalle indagini è emerso che i due denunciati avevano chiuso da mesi La vecchia attività per trasferirsi in un nuovo locale Dove avevano effettuato lavori di ristrutturazione Procedendo allo smaltimento nell'aria Tutta la merce inutilizzabile ed il materiale di risulta Oggi 5 giugno ricorre il 205esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri Diverse le celebrazioni in tutta Italia a partire dalla capitale Dove il comandante generale Giovanni Nistri Ha dato il via alla particolare giornata Rendendo omaggio ai caduti Deponendo una corona dall'oro al sacrario del Museo Storico dell'Arma Diversi poi gli eventi previsti nell'arco della giornata Si è svolto presso il Departimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria Un incontro per discutere dell'avvio dei lavori per la messa in sicurezza Del tratto della strada provinciale SP23 tra Ioppolo e Coccorino L'ingegnere Ferrara di ANAS ha anticipato l'avvio dei lavori previsto entro 15 giorni Grazie alla collaborazione con l'Università della Calabria è stata completata la progettazione E sono state eseguite indagini e analisi necessarie per l'avvio dei lavori E' stata già individuata l'impresa che dovrà realizzare le opere Puntiamo ad avviare i lavori tra 10 e 15 giorni e di portarli avanti In questa delicata prima fase almeno fino a fine luglio Dopodiché se si sarà riusciti a rendere sicuro il costone Si prenderà in considerazione la riapertura al traffico Nel 2018 il mercato immobiliare residenziale calabrese continua a crescere Seppure con un tasso meno sostenuto rispetto all'anno precedente Lo rileva un report della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate La situazione fra le 5 province è tuttavia differenziata Spicca il risultato di Catanzaro che con un più 20,1% Spinge la crescita dell'intero mercato provinciale fino all'11,4% In virtù della sua estensione Cosenza resta il primo mercato provinciale della regione Registrando tuttavia una certa stazionarietà Sostanzialmente statico anche il mercato provinciale di Reggio In crescita la provincia di Crotone Mentre Vibbo è l'unico mercato provinciale con segno negativo E concludiamo Il Comune di Cinque Frondi si prepara alla quarta edizione della Marcia della Pace Che si svolgerà il 7 giugno in collaborazione con il Servizio Civile E l'istituto comprensivo annoia Gifone e Cinque Frondi Per valorizzare lo spirito di pace attraverso la partecipazione attiva di adulti e bambini La marcia partirà da via Gramsci alle ore 9.30 E sarà accompagnata da musica e colori per poi concludersi in via Castello Dove si darà spazio agli interventi istituzionali E subito dopo agli alunni delle classi scolastiche Che hanno partecipato al concorso Vi racconto la mia marcia della pace Diretto e preciso il commento del sindaco Conia Siamo arrivati alla quarta edizione di un appuntamento importante Ormai per tutta la Calabria Infatti anche quest'anno Tante sono le adesioni di scuole Studenti, associazioni ed autorità Cinque Frondi si colorerà di amore, solidarietà e accoglienza E confermerà di essere diventata la città dei diritti Anche per oggi l'edizione di Piena News termina qui Come sempre vi ricordiamo che queste altre notizie Potete trovarle sul sito di cn24tv.it Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG E rimanere informati su ciò che accade Nella Piana di Gioia Tauro ed in generale in tutta la Calabria Si può collegare sul sito www.pianatv.it Grazie come sempre per averci seguito E vi auguriamo un buon proseguimento di serata Con i programmi di Piana TV E vi auguriamo un buon proseguimento di serata